Inizierà nelle prossime settimane la bonifica dell'amianto dai tetti delle palazzine di Piazza Italia a Broni che in seguito saranno completamente demolite per fare spazio a un parcheggio a servizio del centro storico. Lo ha annunciato il Comune dopo che nei giorni scorsi è stato completato l'allestimento dell'area di cantiere nel piccolo parcheggio, oggi chiuso ovviamente al traffico. Sono in tutto circa 800 i metri quadrati di onduline tossiche che dovranno essere eliminate per consentire all'inizio dell'anno nuovo l'avvio della demolizione vera e propria di questi stabili ormai fatiscenti che peraltro nei mesi scorsi sono stati completamente svuotati da mobili infissi e rifiuti. Una volta demoliti i palazzi il progetto prevede l'ampliamento dell'area a parcheggio di Piazza Italia ma anche quello del giardino urbano di Via Emilia. Il quartiere è già stato interessato da altri interventi di riqualificazione e questo è l'ultimo step. Dopo un lungo iter burocratico che ha impegnato l'ente per diverso tempo, finalmente adesso si partirà concretamente con la realizzazione del progetto. Riqualificazione urbanistica che iniziò diversi anni fa con il recupero della vecchia scuola media dove adesso è sede di tante associazioni culturali e della nuova biblioteca, della realizzazione del giardino urbano, del nuovo giardino urbano, della riqualificazione della palestra che c'è in Piazza Italia e l'ultimo step riguarda l'abbattimento dei palazzi e la riqualificazione di quella ultima parte del quartiere che insiste tra Piazza Italia e la Via Emilia.